Ah, è vero, sì, l'altra volta avevamo visto sta cosa qua. Ci sto ricordando, eh. Ci vuole un po' di pazienza. E che bello avere la faccia blu. Meravigliosa. Se c'è una porta vuol dire che sta proteggendo qualcosa. Va bene. Allora, allora, allora. Scusatemi, dieci minuti di ritardo, ma sono stata chiamata all'ultimo. E quindi stavo cercando di capire... Ehi, Sindri, daresti un'occhiata a questo? Non ho molto altro da fare. Ah, ok. Wow, è bellissimo. Un animo in pena, perché abbiamo chiuso le persiane, no? E lui sta cercando di vedere fuori. Allora ogni tanto vedi che va lì, fa la passeggiata, mi guarda, come per dire, ma non è che mi apriresti la finestra? Senti, sta... sta cantando. Sento... la sua voce. Te l'avevo detto che era lei. Pensi che sia lì dentro? Ecco. Oh, quanto fa male. Sembrava che la mano andasse a fuoco. Allora non gli fa niente. A posto. Resta qui. Resta... qui. Beh, a sto giro non gli do torto. Usala solo se necessario. Mi hai dato la tua ascia. Ti ho affidato la mia ascia. Non te l'ho regalata. Eh, esatto. E vedi di non dimenticarlo, eh. Com'era il detto? Se lo torno di dentro. Certo, fammelo... ancora più bianco, eh. Così non lo vedo. Col contrasto di quel giallo lì. Ok. Ah, sì. Ne aveva parlato la strega di tutta questa oscurità. Dai che dobbiamo riprenderci il porta... Monete. Qua non si va. Qua non si va. Qua? No. Di qua. Perché non sale? Candele. Qua è tutto chiuso. Di qua. Ok. Dobbiamo seguire di qua. Tanto se è sbagliato, prima o poi si fermerà. E si bloccherà. Ah, ok. Ho trovato la strada giusta allora. Di là, immagino, non ci sia niente. Ok. Questa è la loro casa. Io non lo conosco e lui non mi conosce. Eh. Non sembra interessato. Io sono forte. Sono intelligente. Non sono come pensa lui. Io lo so. Vabbè, lui è forte in Sni, nel senso che essendo un bambino. Lui non mi fa. Lui non mi insegna niente. Doveva morire lui. Mi senti? Lui non te. Ah, questo è i ricordi di Atreus, praticamente. E i pensieri, magari, anche che ha avuto riguardo suo padre. No? Eh, sì. Secondo me lui può essere un padre migliore, però ci deve provare. Invece non fa altro che rispondere male. Risponde male, con tono alto. Non aiuta Atreus nel modo che dovrebbe fare. Padre dell'anno, insomma. Come dico tutte le volte. Appunto, come stavo dicendo. Ho aspettato tanto, ma tu non uscivi più. Allora ti ho tirato fuori. Ragazzo. Sono stato via a pochi. Pochissimi minuti, guarda. Momenti. No! Sei stato via per tanto... Tanto tempo. Io non sapevo cosa fare. Mi hai lasciato solo. Di nuovo! Di me non ti importa. Io? E' malato. Ma è impossibile. Andiamo prima che tornino. Spero tu abbia ciò che volevi. Ah, lì ce lascio però. Che non la prende? Siamo in trappola. E la corda della trega è inutile. Boh. Ragazzo, l'arco. Tienilo. Ah, ok. Gli serve come potenziamento all'arco. Hai ottenuto le frecce di luce. Tira le cristalli di luce per infonderli con la luce di Altheim. Al segnale, scocca la freccia sulla roccia. Ok, allora. L2. Ok, così. Ora possiamo tornare indietro. Vieni. A posto. Vieni. Dei fare te. Eh, gattino. Vieni, gattino. Ormai, gattone. Sette anni, ciao. Un bel gattone adesso. Questo cos'è? Belle queste frecce comunque. Mi piace sta cosa. Sì, sì. Allora, andiamo qua. Andiamo qua. Se sentite bambini, macchine, tutto quello che volete, sappiate che è perché ho tutto aperto. Fa caldo, giustamente. No, quello non fa quello che ci interessava a noi. Ah, di là dobbiamo andare a tre o... Dobbiamo fare qua in mezzo? Dai, su. Però è oro, quindi vuol dire che dobbiamo fare qualcosa qua in mezzo. Ok. Di qua. Posto. Siamo ritornati indietro? No, forse è un altro fascio di luce. Sì. Fa niente qua. Può fare una cosa? No. Infatti. Allora. Noi dobbiamo... Noi dobbiamo... Il puntino è di qua. Ah, sono tornata indietro? Sì. Scusate. Sono proprio... Concentrata sul red e non... Non ho proprio compreso che siamo tornati letteralmente indietro. Ok. Quindi. Sotto c'è qualcosa? No. Lì c'è qualcosa? Lì c'è qualcosa? Ma vedi? Bancava qualcosa qua. Posso metterlo sia lì e sia... Là. Metto prima là. Mettilo qua. Ok. Perfetto. Quindi salgo qua. Se vado a prendermi il tesoro. Oh. Questi servono. Ok. Squadre pezzato di Half-Hame. Riduce al 12% tutti i danni inferti dagli Elfi Oscuri. Ok. Adesso lo posso togliere e possiamo andare avanti. Ok. Ok. Vai, Atreus. Si è attaccato di là. Ok. E io come faccio a venire di qua? Cioè nel senso ad andare di là? Forse devo colpire questo. Certamente. Perfetto. Sì. Ok. Sì. Ok. Perfetto. Perfetto. solo tipo fatti c'è un altro da rompere ok allora questo non è da solo fatemi vedere se riesco a trovare il metodo di romperlo ma ne dubito ok questo se ne è andato qua quell'altro lì ah vedi ce n'è uno in fondo non ci sono arrivata no non ci sono arrivata ciao ben arrivato ben arrivato perché sto litigando qua e non ci arrivo eh come lo prendo quello di là adesso poi vedremo allora vado su di qua vediamo cosa c'è qua sopra adesso abbiamo l'arco potenziato eh posso fare i ponti da sola con Atreus che sono entrata dentro un fascio di luce che c'era la madre di Atreus e c'erano tutti i pensieri negativi di Atreus quindi è un divertimento che tu non hai idea e a un certo punto siamo riusciti ad avere questo potere meraviglioso in cui io lancio frecce di luce e mi crea ponti meraviglioso ehm in tutto questo ho visto che c'era una roba che potevo tagliare da una parte ma non dall'altra e credo che rimarrà così perché non so come come farlo quindi andiamo avanti senza problemi vedi questo ponte qua l'ho creato io tramite quei cristalli che vedi là sotto e e grazie anche ad Atreus però mi sa che sono tornata indietro un'altra volta mannaggia a me mannaggia allora dunque devo andare oh di là devo andare si quindi si può scendere di qua neanche morto vero Kratos di qua però si scendiamo di qua dai scendi oddio mio e poi ho detto se sentite voci di bambini eccetera sono i bambini che abitano dove abito io e vabbè ho tutto aperto quindi si sentono che giocano e parlano tutto quanto quindi non fateci caso oh ecco qua guarda eh ti faccio vedere faccio così schiaccio il nostro quadratino e mi fa il ponte bello dolore rapido e tra l'altro è anche abbastanza forte così no eh meno male perché io ce le ho nelle orecchie letteralmente te allora quanti siete che diavolo è successo ma non vedo niente anche prima è passata la macchina sfrecciando come che possiamo fare le corse in formula 1 guarda lascia stare allora oh guarda lì 1 2 3 devo farlo mi sa dal ponte si vediamo se ah e poi ho dovuto fare un enigma con sta roba qua che le dovevo liberare tutto quanto cerchiamo di ritornare su dobbiamo ritornare su ah vedi che serviva qualcosa allora ah ah vedi vedi ok aspetta però facendo quello liberato anche di qua ma neanche proprio ci riprovo l'ultima volta per questo qua perché so che lo devo fare da qua se no non ha senso tutto questo ah ok più su ok quindi proviamo a fare così oh visto io l'avevo detto dovevo farlo da lì però non c'aveva senso no oppa la la qua allora chi è eh mannaggia anche voi però eh dimentico sempre che Kratos ha tipo un sacco di attacchi bellissimi e meravigliosi e puntualmente non li faccio ok bravo treus ok fatto mi ha lasciato giù potenziare le frecce usando ok cedo no io voglio potenziare le frecce col povero atreus dov'è questo qua quando atreus strangola un nemico può eseguire una combo va benissimo fammi fare questo e fammi fare questo qua oh quanti dunque le combo di lanci precisi ah questo non l'avevo ancora fatto ma subito perfetto questi qua vabbè ok adesso mi sono persa un attimo dove dovevo andare ah dove c'era esatto grazie atreus se non ci fossi tu olè comunque è bellissimo fare questa cosa qua creare i ponti allora intanto oh intanto c'è un tesoro lì e lo prendo subitissimo ok perfetto devo dire che ci sto prendendo la mano eh sia con kratos che con atreus sperzata di utgard tacco runico leggero mmm ma aspettiamo prima di di mettere queste cose qua prima voglio vedere cioè adesso voglio rimanere con queste che ho già poi vediamo e come facciamo passare qua aspetta che ora mi deve venire il genio il genio intendo ovviamente un'idea mh aha eccolo lì cosa fa forse lo devo tirare giù aspetta no così kratos no ok qua qua dove lo devo portare a casa nel villaggio se lo vuoi lo mettiamo in mezzo alla stanza così fa anche luce volendo questo cosa conviene cosa fa oh c'è una scritta Atreus 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 il traduttore altro che Google Translate abbiamo Atreus e quindi attreus